Il romanzo è un romanzo a forte taglio psicologico, vista la mia professione, e oltre alla narrazione della storia mi sono concentrato su quello che avveniva dentro la mente e l'anima dei miei personaggi e infatti li ho voluti tratteggiare in maniera molto definita. Ci sono il personaggio principale Emanuel, che è un avvocato di 44 anni, che cerca di sfuggire un po' agli stereotipi, all'etichetta, appunto il titolo del romanzo, che sono stati scritti per lui e cerca di strapparsene via per poter avere un futuro e anche una realtà diversa. È un po' il suo combattimento con il quale cerca di uscire dalla realtà che era stata costruita per lui. Ci sono vari personaggi, anche la sua compagna Martina, e questa figura particolare di suo padre che è l'avvocato, del quale non viene citato il nome, semplicemente perché è una figura austera, forte, che tutto sommato è carnefice ma è vittima, perché è vittima delle sue etichette e di quello che lui si è voluto costruire. Manuel in qualche modo cerca di uscire da questa situazione. I nuclei fondanti sono due, la famiglia, infatti Manuel riesce a creare una sua famiglia, e l'amicizia, perché l'amicizia con Raffaele, questo ragazzo semplice, gli permette di uscire e gli permette anche di venire fuori e cercare di costruire la sua realtà. Credo sia anche naturale, fisiologico, qualche influenza anche delle sue esperienze quotidiane da psicologo e psicoterapeuta nella creazione anche dei soggetti, dei personali. Ma quello è normale. Ovviamente non ho riportato storie dei miei pazienti perché sarebbe ideontologicamente scorretto, però è ovvio che mi sono un po' informato, mi sono un po' ispirato alla loro vita. Qualcuno mi ha chiesto se è la mia storia, visto che io ho 44 anni come il personaggio del libro. No, non è un libro autobiografico, però è ovvio che l'autore e la sua vita vengono fuori e si sentono forti nel momento in cui scrive, nel momento in cui l'autore vede la storia e la riporta, c'è se stesso per forza. Mi sembra di capire che Etichette sta già ispirando anche un seguito, ma intanto concentriamoci su Etichette, dove i potenziali lettori possono trovarlo? Allora, Etichette è disponibile in tutte le librerie d'Italia, se non è presente il libraio lo può tranquillamente ordinare e gli viene consegnato dal distributore ed inoltre è disponibile nel circuito online, quindi Amazon, Mondadori Store e via dicendo, può essere ordinato ed arriva a casa. Sì, Etichette è concluso, c'è già in cantiere qualcos'altro, speriamo il prossimo anno di partorire.